e gli anni 90 decisevo andare a Sanremo con il mio vecchio gruppo e portavo questo brano per portare la musica popolare a Sanremo e stasera con me in forma come mai Chiorenza Calocero Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info A presto A presto A presto A presto A presto